sta per iniziare una nuova puntata ma che dico nuova la prima ma no la zero questo serve per capire se il format funziona e questo spazio dove sto parlando in questo momento sarebbe per annunciare i titoli della puntata ma va bene così è la zero sigla ma che accoglienza che studio e che pubblico che non diremo mai che è finto benvenuti io sono omere in diretta dalla strada del mare qui a bellaria e gemarina in viale pinzon 310 a porto mario camper village iniziamo questa prima puntata ovvero la puntata zero di radio camper frequenze on the road e in mia compagnia c'è no non c'è nessuno c'è perché doveva esserci alessandro che mi fa da coconduttore ma nella puntata zero non ci viene lui se funziona viene alla puntata uno va bene che cos'è radio camper radio camper è un nuovo modo per raccontarvi quelle che saranno le novità della stagione 2021 ma anche per sentire le vostre storie le storie di viaggio le storie di vita da camper e lo faremo in diversi modi anche accompagnati con degli esperti del settore per domande dubbi magari risolvere qualche problema di meccanica o di funzionamento del camper non lo so ci saranno tante cose in questo contenitore nel frattempo volevo ringraziarvi per averci sommerso delle vostre prenotazioni chi non l'ha ancora fatto mi raccomando www.portomario.com e in quattro clic prenotate la vostra sosta la vostra piazzola la vostra vacanza qui sul mare di bellare e gemarina come interagire con noi è semplicissimo tramite whatsapp al numero 347 45 33 383 molti di voi ci avranno già il numero di portomario salvato in rubrica quindi è ancora più semplice oppure potete scriverci qui sotto al post di facebook la prima novità abbiamo detto che all'interno di questo podcast vi racconteremo le novità ma partiamo da quando apriremo rullo di tamburi no non ce li abbiamo fa niente ve lo dico in confidenza non ditelo a nessuno tanto su questa pagina siamo circa 6.000 camperisti noi siamo fiduciosi siamo ottimisti e diciamo che per metà aprile apriamo dcpm permettendo ovviamente e sarà in assoluta sicurezza quindi preparate i vostri mezzi scaldate i motori e ci vediamo ovviamente qui al mare se mi dico mi stanno dicendo adesso della regia che abbiamo uno spot uno sponsor cioè non abbiamo ancora pubblicato la prima puntata abbiamo già uno spot incredibile non vedevo l'ora di annunciare la pubblicità pubblicità torniamo tra poco punta verso il mare quest'estate passa da noi portomario camper village e stai sul classico beh trovo fantastico che noi ce la cantiamo e ce la suoniamo detto questo quello era lo spot di portomario 2021 io pensavo che ci fosse che ne so lo spot di un salame di una nota marca di occhiali o di una ciabatta per il mare e invece no vi raccontavo poco fa che avremmo avuto degli ospiti oggi e per sempre direi abbiamo un uomo un uomo che non è un uomo semplice è un colonnello che si ha dato la sua disponibilità per raccontarci di settimana in settimana quello che sarà il meteo qui a bell'aria e ciamarina e quindi ci colleghiamo col colonnello bell'uomo e ben ritrovati amici con l'appuntamento del meteo di questa settimana io sono il colonnello bell'uomo grazie professionale il sole questa settimana sarà bello mare tra l'altro molto bello temperature ci sta ma come vento né forte né piano il giusto giusto e questo per il momento è tutto l'appuntamento con il meteo la prossima settimana io sono il colonnello bell'uomo grazie ciao patrizia allora io ho tre domande uno se è colonnello due chi è patrizia e perché quando dice bell'uomo poi dice grazie ma boh allora regia vediamo se abbiamo qualche nota vocale che ci è arrivata dai nostri amici camperisti nel frattempo vi ricordo per mandare le vostre note vocali potete farlo al 347 45 33 383 via whatsapp abbiamo qualcuno vediamo sentiamo ciao sono vittorio ciccio sono un fotomodello 56 anni un applauso merita un applauso al ciccio perché perché ha rotto il ghiaccio oltre che altro detto questo siamo purtroppo arrivati alla fine di questa prima puntata io mi sono divertito ci sentiamo settimana prossima direttamente dalla strada del mare di bellare giamarina qui a portomario io sono Omar e questa è il radiocampo